Settimo anno per un progetto che è cresciuto, un progetto di reinserimento sociale. Sì, sport veramente per tutti. È molto bello questo progetto che riesce attraverso lo sport a superare anche le mura del carcere e mettere in condizione i 400 detenuti di poter praticare sport. È un modo per essere vicino alla funzione fondamentale che deve avere questa struttura, cioè quello di ricreare le condizioni per poter recuperare la persona a un rapporto corretto con tutto quello che sta attorno a lui. La funzione del carcere è intesa costituzionalmente. Per noi è un piccolo contributo ma da un grandissimo valore. Una regione che sta lavorando per portare lo sport nelle scuole, fra gli anziani vi dicendo, non poteva dimenticare luoghi che segnano la civiltà di una comunità.